Un ordine del giorno per impegnare Cialente e la sua maggioranza a spingere la regione ad attivarsi per rivedere i parametri delle aree protette sul Gran Sasso e Campo Imperatore, dove l'impasse per la realizzazione dei nuovi impianti di risalita Scinderella-Montecristo si protrae ormai da più di un anno. È la soluzione proposta dal consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, per il quale dovrebbero essere escluse dai cosiddetti SIC, i siti di interesse comunitario, dove è impossibile alzare anche una pietra, dalle zone in cui sono previsti i nuovi impianti di risalita, il cui iter realizzativo è iniziato nel lontano 2004, anno in cui fu approvato anche il piano d'area del Gran Sasso. Una proposta che ricalca le decisioni già adottate in altre zone dell'Abruzzo, dove i confini delle aree protette dalle norme europee sono stati disegnati ad hoc per consentire la costruzione di seggiovie e cabinovie. Da mesi è nata una polemica a distanza tra maggioranza ed opposizione sulla realizzazione dei nuovi impianti di risalita, senza che però alcun nodo sia ancora venuto al pettine e con la stagione invernale del Gran Sasso ormai quasi alle porte, in vista della quale si potrà operare solo una nuova manutenzione della seggiovia già esistente, ormai però obsoleta. Noi possiamo muoverci ed ecco il perché dell'ordine del giorno che sollecita il sindaco affinché nei confronti alla regione, ma ho già avuto modo di parlare con il Vice Presidente della Giunta regionale, Lolli, poiché da questo punto di vista siamo nelle condizioni di poter modificare il perimetro del SIC che interessa appunto questo sviluppo del Gran Sasso e queste aree in modo positivo evitando il contrasto con l'Europa e permettendo, come accade in tutte le regioni d'Italia dove si fanno investimenti di questo tipo, di poter realizzare, ammodernare e ristrutturare gli impianti senza per questo intervenire e modificare l'assetto ambientale territoriale.